La situazione dell'ospedale Rizzoli che per tutta l'estate ha tenuto banco con quelle che sono le deficienze e sentiamo quali sono gli aggiornamenti da parte del comitato che si è costituito. Allora Luciano Venia. Il comitato di cui io faccio parte ha inteso riepilogare i punti alla base della sua stessa nascita in una lettera ufficiale che il presidente Gianna Napoleone ha inviato al prefetto di Napoli, al presidente della regione, all'assessore regionale e alla sanità. In questa lettera documento c'è la segnalazione del fatto che il comitato si batte per la riapertura del pronto soccorso a Ischia Ponte perché è veramente assurdo e inaccettabile che sia stato cancellato con un carico demografico e una presenza turistica di milioni di presenze all'anno. chiediamo la riattivazione del SIR per i malati della psichiatria, chiediamo l'aumento dei volumi e delle attrezzature della sanità territoriale e quindi degli ambulatori, chiediamo una funzionalità del CUP, del Centro Unico per le prenotazioni, delle visite specialistiche e delle cure particolari perché non è umano, non è possibile assistere alle scene a cui abbiamo assistito con persone anziane che andavano alle 6 del mattino, alle 9, a loro veniva detto che i numeri erano finiti e non potevano prenotare la visita. Gli schitani devono alzare la testa, non è che il primo che viene dalla terraferma e sbarca ischia, ci porta la buona novella e noi tutti zitti e pruni. Anzi, siccome io sono stato tra quelli che a maggio ha detto scendiamo in piazza e il 28 luglio siamo scesi in piazza in 5.000, oggi io dico noi dobbiamo tornare in piazza per protestare ancora più fortemente, anche perché, mi avvio a concludere, punto focale della nostra battaglia è l'ospedale Rizzoli. Noi sappiamo che domani non si chiude l'ospedale Rizzoli, chi dice che il comitato è nato perché si paventava la chiusura del Rizzoli dice una fesseria. Noi siamo nati perché l'ospedale, secondo noi, non sia solo il cartello affisso a un edificio ma sia un complesso di servizi e di strutture con ampliamento, ammodernamento, potenziamento, aumento delle risorse tecniche, economiche, strumentali e mediche a servizio dei pazienti. Abbiamo letto in questi giorni tante polemiche anche sulla stampa e di cui pure voi avete dato conto. Riteniamo di proclamare una sorta di stato di agitazione da oggi e credo che ci faremo sentire con iniziative incisive.